Un buon musicista ha un piano di studio efficace, ma soprattutto cerca di imparare da ogni situazione e da ogni esperienza. Anche osservare gli altri musicisti può essere utile ad imparare qualcosa. Ma come puoi imparare veramente solo osservando gli altri? Spesso però accade che osservando gli altri si trova esclusivamente un senso di invidia e è molto più facile criticare che osservare ed imparare. Se il tuo modo di osservare sarà costruttivo, ti accorgerai che potrai veramente imparare qualcosa e soprattutto sarà una cosa stimolante per il tuo studio. Come spesso accade e molto spesso è anche di moda, si tende a guardare gli altri trovando un senso di invidia, soprattutto criticando magari gli errori e tutte le cose che non vanno. È assolutamente in modo sbagliato. Quindi se sei una persona che in genere trova invidia per le persone che hanno magari avuto un po' più di successo rispetto a te, metti assolutamente da parte questo sentimento che non ti fa per niente bene. Concentrati esclusivamente su te stesso, datti da fare e crea un piano di studio efficace e soprattutto cerca di essere determinato e tenace di quello che fai. Vedrai che presto, con un po' di pazienza, i risultati si faranno vedere. Buon divertimento! Ciao!